Ritorno all'appuntamento con i nostri consigli di lettura. Ben trovati a Tra le righe, anche questa settimana siamo nella libreria Padre Pio dei Frati Cappuccini a San Giovanni Rotondo, a pochi metri dal convento del Santo Frati di Pietrilcina. Partiamo proprio come ormai tradizione, molti che seguono questa rubrica lo sanno, con un libro firmato da Padre Alessio Parente, Padre Pio e le anime del Purgatorio. Andiamo direttamente al succo, potremmo dire, perché ci sono davvero tante storie della vita del Santo di Pietrilcina e voglio leggervi un passaggio. A proposito dell'ultima ora dell'esistenza terrena, Padre Pio, quando qualcuno gli chiedeva assistenza, non si tirava indietro. Al sacerdote di Lignano Garganico, Don Pietro Paolo Ricci, che nel 1919 gli chiedeva di assisterlo negli ultimi istanti di vita, non trovò alcuna difficoltà ad assicurarlo che sarebbe stato presente. Il sacerdote, non contento dell'impegno verbale, mise per iscritto la richiesta e Padre Pio scrisse in calcio il suo pugno che con l'aiuto di Dio avrebbe mantenuto la promessa. Quando morì il fratello, Maria Pompilio chiese a Padre Pio di intercedere affinché potesse sognarlo. Padre Pio però la rimproverò dicendole, cerchiamo di vivere nel mondo della realtà e non in quello dei sogni. Maria tuttavia insistette e sogna più tardi suo fratello che le disse «Sai che Padre Pio mi ha assistito durante l'agonia?» E lei per tutta risposta «Non l'abbiamo visto vicino a te». «Non ho potuto riferirlo», rispose il fratello, «perché ero in agonia, ma è stato presente finché il giudice non mi ha giudicato. Mi erano stati dati undici anni di purgatorio, ma per intercessione di Padre Pio ho avuto solo un anno. Tanti misteri della sua vita saranno noti solo nell'altro mondo». Il mattino seguente Maria andò dal paese alla chiesa di Santa Maria delle Grazie ai Cappuccini, percorse le due miglia di strada a piedi. A quel tempo non c'erano gli autobus. Appena Padre Pio la vide disse «Sei contenta ora?» E lei, felicissima della domanda che le confermava indirettamente il contenuto del sogno, si permise quasi di scherzare. «Padre, cosa fate? Voi andate dappertutto. Siete qui sulla terra, eppure andate in paradiso». «E che cosa sto a fare qui, sulla terra, se non posso salire e scendere?» Le rispose «Padre, mio fratello allora mi ha detto», continuò lei. «Ma il padre le interruppe con queste parole. Sì, sì, tuo fratello ti ha detto che il mistero della mia vita sarà noto solo in paradiso». Sì. Padre Pio disse veramente «E che cosa sto a fare qui, sulla terra, se non posso salire e scendere?» Proprio come si legge nella Bibbia, quando si parla degli angeli che salgono e scendono la scala di Giacobbe. Padre Pio, donato di carismi particolari dal Signore, strappava le grazie con il fuoco della sua carità, con l'incessante preghiera, corroborante delle sue sofferenze. Chi può veramente conoscere la vastità dell'amore di Padre Pio? Era solito dire a noi e alle sue figlie spirituali «Il mio cuore è più caldo del sole equatoriale, il mio cuore è un nido d'api». Annina Campanile una volta disse «Non vivo più con il mio cuore, ma con il cuore di Dio». E sicuramente coloro i quali, come dire, hanno la voglia di conoscere ancora di più della vita e della santità, della spiritualità del Santo Frate di Pietrelcina, troveranno davvero storie incredibili, meravigliose in questo libro, che, come dico spesso, potete tenere sul comodino e andare ogni tanto a leggere una storia, un breve capitolo appunto riportato in questo volume firmato da Padre Alessio Parente, Padre Pio e le anime del Purgatorio. Lui parlava ai giovani, ma è il caso di dire come davvero parlasse a tutti quanti, adulti, giovani, piccoli, anziani, ammalati. Parliamo di Don Tonino Bello. La San Paolo ha pubblicato questo libro intitolato «La bisaccia del pellegrino, un prete che parla ai giovani». E Don Tonino, che appunto amava parlare ai giovani, lo faceva davvero con la sua grande forza e carica di speranza e di entusiasmo, parla dell'indifferenza, che è una parola che Papa Francesco ha rimarcato in questi ultimi tempi, a proposito anche dei campi di sterminio dei nazisti in occasione della giornata della memoria. E scrive Don Tonino Bello «La gente per le strade se ne va indifferente con in testa l'imperativo supremo, bada ai fatti tuoi. Invece è sbagliato, prendetevi i fatti degli altri, vi stiano a cuore, abbiate a cura e a cuore gli altri». Don Lorenzo Milani, in cima alla sua scuola, aveva scritto «I care, mi sta a cuore». Purtroppo, invece, spesso si verifica il contrario, anche in quel settore così importante della vita dei giovani, che viene chiamato innamoramento. La persona non sta a cuore, la persona si sfrutta. L'amore finché può dare, finché riempie di gioia va bene, poi basta. Per cui certi sembrano amori, ma sono soltanto egoismi camuffati. Il ragionamento sotteso è all'incirca il seguente. «Ti abbraccio non perché voglio bene a te, perché c'è un esodo che parte da me e va verso di te, ma perché tu vieni introiettato dentro di me. Mi serve, mi piace, e quando non serve più si cambia. Si riciclano gli amori, si riciclano le persone, il che è molto triste. Esiste una bellissima preghiera, scrive Don Tonino Bello, che recita «Signore, fa di me una lampada, brucerò me stesso, ma darò luce agli altri». Invece molti si preoccupano di non bruciare l'olio. Ciò richiama quella pagina del Vangelo laddove si parla delle vergini stolte e delle vergini prudenti. Matteo, capitolo 25, versetti 1-9. C'è tanta gente oggi che chiede l'olio. Lo chiedono a me, ai sacerdoti, ma anche a voi. Quanti amici forse vengono da voi a dirvi «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade non si spengono». E allora non negate il vostro olio, perché è triste quando una lampada si spegne». Parole del grande Don Tonino Bello, riportato in questo libro. Un prete che parla ai giovani, ma che davvero è capace di parlare ai cuori di tutti. È edito dalla San Paolo, la bisaccia del pellegrino. Fulvio e Anna Maria Mannoia pubblicano e firmano per la San Paolo «Famiglia, vai e ripara la mia casa, sposi sulle orme di San Francesco d'Assisi. Sarà la famiglia a salvare la famiglia». Come leggiamo in quarta di copertina. «Se nel Medioevo la santità di un giovane assisano ha riportato alla luce la radicalità del Vangelo, oggi più che mai sarà la santità della famiglia ad annunciare quella pace e quel bene che sono radicati solo in Dio». Voglio leggervi un passaggio dell'introduzione, appunto firmato da Fulvio e Anna Maria Mannoia. «L'invito che vogliamo fare, lettore, è di guardare la sponsorità dei coniugi cristiani come immagine privilegiata per comprendere quel rapporto sponsale che ognuno di noi vive in modo del tutto personale con Gesù Cristo nel proprio battesimo. Si tratta di quel mistero nuziale che coinvolge il cuore di ogni vivente da sempre e per sempre chiamato a vivere in modo unitivo l'amore con Dio e la ricerca assidua del suo volto amante alla sequela di Cristo. Molti si chiederanno, ma il Vangelo è una proposta di vita ancora credibile e attuabile in famiglia? Per noi è stato ed è sempre il punto da cui partire. Da buoni pellegrini bisogna decidersi per il santo viaggio. Ci disponiamo con questo obiettivo, a questo cammino insieme a voi, attrezzandoci con qualche piccolo strumento che ci sarà d'aiuto in questo percorso. La mappa per riordinare le coordinate del cuore sarà il Vangelo. I sandali e i piedi ci ricorderanno che siamo sempre in cammino. La sete che ci anima ci spingerà sempre alla ricerca della fonte d'acqua viva. La coppia di sposi sarà la chiave per ricominciare a parlare di Dio amore. Prima di lasciarvi alle pagine di questo libro, scrivono Fulvio e Anna Maria, chiediamo umilmente una preghiera, perché il Signore ci guidi sempre con la sua mano, facendoci umili e instancabili strumenti del suo amore. Famiglia, vai e ripara la mia casa, sposi sulle orme di San Francesco e Chiara D'Assisi, edito dalla San Paolo. Questo libro è firmato da Fulvio e Anna Maria Mannoia. Concludiamo con la segnalazione di questo libro. Lui è uno psicoterapeuta, psicologo e mediatore familiare, si chiama Salvo Noè. La prefazione di questo libro è di Papa Francesco, edito dalla San Paolo. Vietato lamentarsi. Guardate come proprio in copertina c'è l'immagine di un divieto. Sono davvero tantissimi gli spunti di riflessione che potremmo, come dire, attingere da questo libro. Però siccome il tempo sta terminando, vi leggo giusto un passaggio della presentazione di questo libro. Il lamento è diventato il percorso privilegiato della nostra comunicazione. I problemi non possono essere affrontati lamentandosi e basta. Spesso chi si lamenta contribuisce attivamente all'alimentare il clima di negatività che pervade la nostra società. Anche le famiglie e gli ambienti di lavoro sono permeati da questo vezzo. Bisogna riportare la fiducia, la responsabilità e la competenza al centro delle nostre vite private e professionali. Attraverso aneddoti, esercizi e strategie di crescita personale e sociale, questo libro rafforzerà la vostra autostima e la motivazione per evitare di cadere nella tappora del vittimismo. Tanti sono davvero gli spunti di riflessione riportati in questo libro del dottor Salvo Noè. È diviso in tre parti, la prefazione appunto è di Papa Francesco e che hanno sicuramente rafforzato il cammino di chi, come dire, leggendo questo libro vorrà incamminarsi in un modo diverso di concepire la propria vita e la propria esistenza, perché appunto come scrive l'autore di questo volume, è vietato lamentarsi. Edito dalla San Paolo a firma di Salvo Noè. E questa era l'ultima segnalazione letteraria di questa settimana. Grazie davvero di cuore per essere stati con noi. L'appuntamento con Tra le righe, come sempre, la prossima settimana, il prossimo appuntamento con i nostri consigli di lettura. Grazie. 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 Grazie.